Il botone delle auto ha fatto dimenticare a Lido di essere un'isola. I pennelli dei cartellonisti cominciano a sillabare i titoli dei film. Imparano i connotati delle attrici. L'arena all'aperto chiede una toeletta meticolosa. Durante gli spettacoli anche le stelle stanno a guardare. Tutto il mondo di Cinelandia presente sulla laguna è raccolto in impaziente attesa prima della premiazione. Ma non c'è stata la fumata bianca. La giuria della quattordicesima mostra, riconoscendo che nessuna opera presentata si imponeva sulle altre per valore assoluto, non ha conferito il Leon d'Oro primo premio del festival veneziano. Premiati invece con Leone d'Argento, sei film che per livello artistico sono stati posti su uno stesso piano. Quest'ultima decisione, secondo l'opinione corrente, ha deluso in particolare l'aspettativa dei giapponesi.